Ciao a tutti, siamo qui per dirvi una cosa importante, riparte la nostra campagna Puliamo Alba, estesa al territorio di Langhe Eroero, la campagna di Gazzetta d'Alba online grazie alla quale raccoglieremo le segnalazioni da parte di voi lettori di tutto ciò che non va in termini di pulizia sul nostro territorio. Potete mandarci le vostre segnalazioni al nostro indirizzo email puliamolangheroero.com ma anche quest'anno rimarranno attivi i nostri canali social di Facebook e Instagram di Gazzetta d'Alba e poi ci sarà sempre come l'anno scorso l'hashtag Puliamo Alba. Nelle vostre segnalazioni ricordatevi di mandarci il luogo esatto della segnalazione e qualche foto allegata. Che cosa faremo di queste foto? Le caricheremo in tempo reale sulla nostra mappa interattiva visibile sul sito gazzettadalba.it. I pallini rossi sulla nostra custom map indicheranno le zone ancora sporche che man mano verranno aggiornate e diventeranno verdi. Aspettiamo le vostre segnalazioni. Ciao! Un saluto!